Sarà depositato e inizierà l'iter di approvazione la prossima settimana il testo della legge regionale a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha partecipato questa settimana alle loro mobilitazioni, sia quella dei lavoratori di Amazon sia dei ciclofattorini. È infatti per loro che è stata pensata la legge. Con questa norma, tra le più avanzate a livello regionale, verrà data più forza attuativa al testo unico per la sicurezza, che prevede sì norme di responsabilità delle piattaforme e dei committenti, i ristoranti nel caso del food delivery, ma di difficile attuazione. Servirà a prevedere tempi di consegna che non mettano a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare quando le condizioni atmosferiche sono avverse. Imporrà un obbligo formativo a carico delle aziende affinché i lavoratori siano a conoscenza del codice della strada e delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a cominciare dall'uso dei dispositivi di sicurezza che devono essere forniti in maniera gratuita e continua ai lavoratori. La legge, soprattutto, rafforzerà il sistema di monitoraggio ed eventuali sanzioni da parte delle ASL, che dovranno anche correggere ed eliminare pratiche e comportamenti pericolosi. Noi come regione faremo questo e in più manderemo una PDL, una proposta di legge al governo, al Parlamento, in cui diremo di modulare nuovi contratti di lavoro, di definire maternità, ferie, tutto quello che oggi queste ragazze e questi ragazzi non hanno. È una legge di dignità.